Grazie a tutti. La prima ordinanza che una settimana fa ci è imposto la zona arancione rafforzata. Eravamo già stati in grado di anticiparvelo nell'edizione delle 19 del telegiornale di ieri. Poco dopo è arrivata la conferma e è arrivata la firma sull'ordinanza. Resteremo in zona arancione rafforzata, in arancione scuro come dire si voglia, per almeno un'altra settimana. Sulla base delle raccomandazioni della Commissione Indicatori Covid-19 di Regione Lombardia è sentito il Ministero della Salute. Il Presidente di Regione Lombardia ha firmato tre ordinanze con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al Covid su diverse aree del territorio lombardo. Le misure entreranno in vigore mercoledì 3 marzo con scadenza dopo una settimana, mercoledì 10 marzo compreso. Questa la nota ufficiale con cui Regione Lombardia ha comunicato nella serata di lunedì la permanenza dell'intera provincia di Brescia nella fascia arancione rafforzata. Rispetto a una settimana fa, quando solo la nostra provincia e alcuni comuni limitrofi erano finiti in questa zona di rischio speciale, oggi si aggiungono l'intera provincia di Como e numerosi paesi delle province di Pavia, Mantova, Milano e Cremona. Le regole sono sempre le stesse, salvo per un leggero allentamento che vedrà riaprire gli asili nido a partire da mercoledì. Un'altra settimana di zona arancione rafforzata. Poi, mercoledì 10 marzo, arriverà una nuova decisione alla luce dei dati dei prossimi giorni, nella speranza che queste misure inizino a dare il loro effetto. Quindi come abbiamo sentito, tutte le norme rimangono invariate, salvo per questo piccolo allentamento, ovvero da domani torneranno ad aprire anche in questa zona arancione scuro gli asili nido. Quindi asili nido che riaprono a partire dalla giornata di domani anche nella nostra provincia. È comunque un'altra settimana di zona arancione più dura, rinforzata e forse non poteva essere altrimenti. Era una decisione praticamente già annunciata da tempo, anche alla luce dei dati del contagio, che vedono purtroppo dati ai massimi livelli da diversi giorni per Brescia. I dati dei contagi che si rispecchiano anche sui ricoveri, almeno per quanto riguarda i ricoveri della SST Spedali Civili di Brescia. Pensate che da venerdì alla giornata di ieri si è passati da 300 a 340 ricoveri. Il costante aumento dei pazienti ricoverati covid positivi, che nella giornata di venerdì registrava 300 posti letto occupati, si conferma in questi giorni. Ad oggi sono 340 i pazienti ricoverati, di cui 27 in terapia intensiva. Così la SST Spedali Civili di Brescia certifica, se ancora ce ne fosse il bisogno, la situazione dei contagi in aumento, che si riflette anche nei ricoveri nelle strutture del maggiore nosocomio cittadino. In appena un paio di giorni, dallo scorso venerdì, i ricoveri nei reparti covid sono cresciuti di 40 persone. Non cambia anche il tasso di pazienti bresciani, che stando alle parole della direzione della SST, sono la quasi totalità. Dopo i dati sui ricoveri andiamo sul nostro sito internet, laibrescia.tv, per vedere anche i dati del contagio, almeno quelli relativi alla giornata di ieri, come abbiamo potuto vedere dal bollettino di Regione Lombardia. Dal nostro titolo si capisce già che il contagio rimane purtroppo alto, infatti è sopra il 10% il tasso di positività della Lombardia. A Brescia i nuovi casi sfiorano i 500, 497, un numero che sicuramente è praticamente la metà rispetto alla giornata precedente. Questo però perché, come ogni lunedì, i dati risentono di una diminuzione importante dei tamponi. Quegli analizzati sono stati solamente, si fa per dire, perché insomma è un numero comunque relativamente alto, 20.571, che hanno portato alla luce 2.135 nuovi casi di positività. Come detto, supera il 10%, il tasso di positività per la precisione sale al 10.3%. Quindi il 10.3% dei tamponi processati è risultato alla fine positivo. 497 il dato di Brescia, secondo in Lombardia solo a Milano, che fa registrare un più 770. Da tenere d'occhio anche il dato di Bergamo, che è il più alto, diciamo così, dopo quello di Brescia, un più 275. Comunque dobbiamo dire che il distacco è ancora abbastanza ampio fra la nostra provincia e quella orobica. Vediamo con favore, ad esempio, il dato di Sondrio, vediamo un più zero, quindi zero nuovi casi nella provincia di Sondrio. Era davvero da diverso tempo che non vedevamo uno zero nei dati provinciali. Vedremo se sarà un dato destinato a confermarsi anche nei prossimi giorni o se è relativo, come abbiamo detto, a questo effetto weekend con una diminuzione dei tamponi processati. Per quanto riguarda i recovery, anche qua brutte notizie, un più 15 per quanto riguarda quelli nelle terapie intensive Lombarde, che attualmente sono 441, mentre per quanto riguarda i recovery non è in terapia intensiva. Anche in questo caso un segno più, un segno più abbastanza pesante, abbastanza corposo. Sono 106 nuovi recovery segnalati nella giornata di ieri. Stabile, sempre stabile il numero dei decessi. Sono state ancora 42 le vittime del Covid segnalate solo nella giornata di ieri nella nostra provincia. E ora proseguendo in tema Covid cambiamo leggermente argomento perché parliamo della campagna vaccinale, parliamo dei vaccini anti-Covid. Infatti questa mattina sono iniziate le inoculazioni nel secondo hub per le vaccinazioni della città di Brescia che pensate è stato individuato all'interno del centro commerciale Frecciarossa. Il centro commerciale Frecciarossa da oggi ospita uno degli hub vaccinali predisposti dalla SST Spedali Civili di Brescia per condurre la campagna vaccinale di vaccinazione anti-Covid. Per l'occasione uno spazio di circa 1200 metri quadrati al primo piano della galleria è stato trasformato e adeguatamente allestito con varchi di ingresso e uscita separati, banchi reception e aree di attesa pre e post somministrazione, cabine riservate per la vaccinazione, locali di servizio per il personale medico e per la preparazione dei farmaci. Il servizio sarà attivo per sette giorni su sette secondo l'ordine di priorità stabilito dal piano strategico per la vaccinazione anti-Covid e il calendario stimato da Regione Lombardia. Oggi nel nuovo hub degli spedali civili allestito all'interno del centro commerciale Frecciarossa iniziano le nuove vaccinazioni e 50 vaccini verranno destinati al personale docente e amministrativo dell'Università degli Studi di Brescia. Allora, partendo dall'assunto che tutti vogliamo e dobbiamo essere vaccinati e che l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha di fatto concordato questa via preferenziale proprio rispondendo a una richiesta del coordinamento dei rettori lombardi, io credo francamente che questi privilegi in questo momento di pandemia non dovrebbero davvero esistere. Con tutto rispetto per i docenti universitari e per il personale amministrativo ci mancherebbe, ma loro sono stati i primi ad essere posti in FAD, quindi in formazione di didattica a distanza. E allora perché quindi questa corsia preferenziale? Ci sono i nostri anziani che ancora stanno aspettando di essere vaccinati, sono tanti. Nel bollettino di Regione Lombardia dei morti per Covid, nella giornata di ieri e dell'altro ieri, abbiamo contato 13 morti, il più giovane aveva 77 anni, il più maturo ne aveva 94. E allora perché non concludere prima tutte queste vaccinazioni? Questi vaccini non sono destinati a persone così mature? Bene, allora vi faccio tanti altri esempi. Potrei parlare ad esempio dei docenti, vogliamo rimanere nell'ambito della scuola, i docenti degli asili nido che ancora oggi vanno a scuola, quelli degli elementari, quelli delle medie, oppure quelli che per rispetto della legge 104 che seguono i bambini con disabilità sono presenti in classe. Oppure ancora coloro che vanno in classe perché accolgono i figli dei dipendenti dei nostri operatori sanitari. Però potrei continuare, i tabaccai ad esempio, perché loro non hanno questa corsia preferenziale? Sono una categoria che lo Stato ha deciso che dovevano rimanere aperti fin dal primo minuto, sempre, costantemente, al servizio della popolazione. Oppure, non so, la cassiera di un supermercato, coloro che lavorano nei supermercati, altri, altre persone che sono state esposte a un contagio con grandi rischi. E non voglio dire i giornalisti, è un'altra casta, molto spesso veniamo così indicati. Non l'abbiamo chiesto, per fortuna, e va bene così, che noi non abbiamo chiesto di passare davanti a coloro che stanno rischiando più di noi la vita ogni giorno nel contagio. Sì, è vero, sono molto arrabbiato, indignato, veramente, per questa scelta che non giustifico e che comunque non continuo a non capire. In questo momento di pandemia tutto vorrei, tranne che assistere appunto a questi sorpassi dovuti a logiche politiche di rappresentanza, queste che ritengo siano prevaricazioni. Oggi, più che mai, non ci deve essere la corsa a chi conta di più, ma a chi rischia di più la vita ogni giorno. Per chiudere la nostra pagina del telegiornale dedicata al Covid e ai vaccini, vi riportiamo anche quella che è stata una lettera inviata dal presidente della provincia di Brescia, Samuele Alghisi, responsabile del piano vaccini di regione Lombardia Guido Bertolaso. Alghisi non ha utilizzato mezzi termini, è stato molto diretto, ha parlato di Brescia in una situazione assolutamente critica e ha chiesto di mandare tutti i vaccini disponibili qui. In questo momento di particolare criticità, dove tutti i numeri ci pongono al primo posto per indice di contagiosità, dove si registra un'alta saturazione delle terapie intensive, ora non è più necessario, ma è diventato urgente, concentrare su tutto il territorio bresciano e non solo in qualche comune limitrofo tutte le vaccinazioni. Questo l'accorato appello del presidente della provincia di Brescia, Samuele Alghisi, lanciato in una lettera diretta al responsabile del piano vaccini della Lombardia Guido Bertolaso. A dare maggior peso all'allarme di Alghisi, i dati sulla diffusione del contagio a Brescia ai massimi ormai da diversi giorni e anche l'aumento dei ricoveri comunicato ad esempio dal civile. Se i dati sono realistici, tutta la provincia è in una situazione critica e non possiamo permettere che Brescia riviva quei drammatici momenti che lo scorso anno l'hanno resa la più colpita dalla pandemia a livello nazionale, ha continuato Alghisi. Bisogna partire immediatamente con un piano di vaccinazione a tappeto, solo questo potrà consentirci di tornare a livelli accettabili. Abbiamo bisogno che tutti i vaccini siano dirottati sul Bresciano, il prima possibile, come avevo già chiesto al Governo e a Regione. Brescia è di nuovo in affanno, che diventi la priorità di tutte le istituzioni coinvolte. Passiamo ora alla cronaca che esula dal tema Covid e parliamo dei controlli della Polizia Stradale. Pensate che gli agenti della Polstrada hanno fermato questo tir perché sembrava sovraccaricato. Ebbene, era così ma c'è stata anche una problematica sul conducente. Scopriamo quale. In pensione, ma non troppo. Così la Questura ha ironicamente descritto un uomo di quasi 70 anni trovato alla guida di un autoarticolato. Per chi non è del settore, i requisiti per guidare autotreni autoarticolati impongono di avere non più di 65 anni di età, con la possibilità di proseguire fino a 68 anni con tre rinnovi annuali approvati dalla Commissione Medica. Allo sforamento del limite d'età per la guida, poi, si è aggiunta un'altra problematica. Gli agenti della Polizia Stradale di Darfo avevano infatti fermato il mezzo a Rodengo Saiano perché già da una prima occhiata si evinceva di come fosse stato sovraccaricato. Questi sospetti sono poi stati confermati nelle verifiche effettuate in seguito. La somma di queste due infrazioni è costata all'uomo ben 1200 euro di multa, oltre alla sospensione della patente da 4 a 8 mesi. Nella giornata di ieri si sono verificati due incendi ad altrettanti mezzi pesanti nella nostra provincia, pensate davvero in appena mezz'ora fra le 12 e le 12.30. Fortunatamente l'intervento tempestivo di Vigili del Fuoco ha permesso di mettere tutto in sicurezza e non si sono stati feriti. Appena lo scorso venerdì avevamo riportato dell'incendio a un camion avvenuto sull'autostrada A4, immagini spaventose ma conseguenze per fortuna non gravi se non sul disagio degli automobilisti costretti a lunghe code e deviazioni. Nella giornata di lunedì, nel giro di appena una mezz'ora, altri due mezzi pesanti hanno preso fuoco in due diverse zone della nostra provincia. Il primo attorno alle 12 in via Roma-Iseo, a bruciare era un camionato al trasporto di Ghiaia e in soccorso dell'autotrasportatore sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un autobotte. L'incendio è stato domato e l'area è stata posta subito in sicurezza. Il secondo incendio è scoppiato invece attorno alle 12.30, nuovamente sull'autostrada A4, questa volta nel tratto fra Palazzolo e Rovato nel territorio del comune di Erbusco. Fortunatamente anche in questo caso non si sono registrati feriti e il fuoco è stato spento, ma si cerca ora di capire le cause che hanno dato il via a rogo. Aveva causato una lite fra automobilisti, era fuggito, ma la polizia si è messa alla sua ricerca. Pensate che quando è stato ritrovato è stato sì denunciato per aver causato questa lite, per aver minacciato il guidatore dell'altra auto addirittura di morte, ma anche per possesso di droga. Aveva scatenato una vera e propria lite in via Fratelli Ugoni in città con una donna, probabilmente per futili motivi dovuti alcuni screzzi alla guida e poi se n'era andato. Questo giovane bresciano di appena 20 anni aveva minacciato di morte la donna al volante della propria auto e pensava di averla fatta franca semplicemente lasciando quella zona. Gli agenti della squadra volante però sono riusciti a rintracciarlo poco dopo in Piazza Vittoria e il successivo controllo ha aggiunto alla vicenda anche l'aggravante dello spaccio di droga. Il giovane era infatti in possesso di alcuni grammi di marijuana e la perquisizione della sua abitazione ha permesso agli agenti di recuperare altri 40 grammi della stessa sostanza, oltre a tutto il necessario per impacchettare le dosi. A questo punto è scattato l'arresto per spaccio e minacce, misura che è stata convalidata la mattina successiva dal giudice. Lo sport ora con il Brescia Calcio che torna in campo questa sera lo fa alle 19 in casa contro il Cosenza, un'occasione ottima per tentare di riscattare quello che è stato il pareggio del tardo pomeriggio di sabato contro l'Entella, un'occasione ottima per provare a uscire da quelle che sono le sabbie mobili della classifica che vedono attualmente invischiato il Brescia pericolosamente vicino alla zona retrocessione, quindi una vera e propria sfida salvezza. Il tecnico delle rondinelle però Pepe Klotel si dice molto positivo e vede miglioramenti anche nella sua rosa. Sentiamo le sue parole di ieri in conferenza stampa. Lo che è importante, anche dal mio punto di vista, è che seguiamo con la mentalità di… Io vedo insomma una squadra che migliora giorno dopo giorno e l'importante è che la squadra mantenga la consapevolezza di poter andare a vincere sia in casa che in trasferta e sono convinto che tutti questi fattori insieme, insomma la voglia della squadra, dei singoli, la voglia di tutto il club e anche i tifosi che ci stiano sempre più vicino, tutto questo insieme di cose può portarci a fare bene da qui alle prossime 13 partite che manca. Guarderemo insomma la classifica all'ultimo giorno e lì vedremo insomma i frutti che abbiamo raccolto di tutte queste settimane. Con l'Intel era una partita trappola e noi però comunque siamo riusciti a muovere la classifica, siamo riusciti a non perdere, abbiamo fatto un pareggio che ovviamente non ci soddisfa, però la mentalità è quella di andare ogni partita, essere sempre più consapevoli e cercare appunto sempre la vittoria in tutte queste 13 partite che mancano fino alla fine. E vi riporto ancora per un attimo sul nostro sito internet livebrecia.tv anche perché pochi minuti prima che andassimo in onda con questo telegiornale il Brescia Calcio ha comunicato quelli che sono i convocati per la sfida di questa sera fra Brescia e Cosenza. Li leggiamo insieme, i convocati sono Ioronen, Karacic, Matteo, Ciancelor, Vandeloi, Spalek, Donnarumma, Kotnik, Mangraviti, Cistana, Scrubb, Aiella, Boico, Ragusa, Iaghiello, Bisoli, Martella, Paiac, Friede Johnson, Bjarnason e Papetti. Quindi questi sono i convocati di Mr. Pep Cloteto per la sfida di questa sera del Brescia contro il Cosenza, sfida che ovviamente potrete seguire in una nuova puntata di Diretta Stadio a partire dalle 18.30 qui su Elive e anche sulla nostra pagina Facebook Live Brescia TV con Fabio Petteno e tutta la sua squadra. Ovviamente seguiteci per sostenere le rondinelle in questo momento sicuramente non facile, mandateci anche i vostri messaggi, i vostri commenti e le vostre domande via Whatsapp o commentando appunto la diretta Facebook. Cambiamo ora sport e passiamo alla pallavolo perché nel fine settimana sportivo bresciano ha giocato anche l'Atlantide pallavolo Brescia, una partita in realtà giocata fino all'ultimo secondo, in realtà fino all'ultimo set, il tie break. L'Atlantide però non è riuscita a vincere questo spareggio ma torna comunque da Ortona con un punto. Occasione persa per Brescia che parte sempre avanti nei set ma non ha l'aggressività e la precisione necessarie per imprimere la propria inerzia e dominare il match come avrebbe potuto. La corsa ai playoff dei Tucani parte con un punto conquistato al tie break contro Ortona. I tanti errori dei Tucani regalano il primo vantaggio ad un'impavida che cresce, convinta da risultato e si carica nonostante l'assenza di Cantagalli. L'Atlantide non riesce a mettere in campo la giusta continuità e quel pizzico di cattiveria utile a vincere i primi due parziali persi sul filo. Si ridesta nel terzo, chiuso con autorevolezza e arriva al tie break ma con le energie ormai al minimo. Un punto preso ma due lasciati ai padroni di casa. Ora due turni interni per continuare il cammino verso i playoff. La sensazione è di aver sciupato una vittoria al commento a caldo di coach Zambonardi. È un'occasione persa rispetto a quel che si sarebbe potuto fare stasera ed è un punto guadagnato visto come si era messo il match dopo i primi due set. Abbiamo sprecato troppe palle break nel primo parziale dando a Ortona modo di caricarsi e portarsi avanti nel secondo. Ci è mancato il cinismo per chiudere i punti decisivi in avvio e ho visto in campo più tensione e nervosa che agonistica. E questa era l'ultima notizia dell'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi ricordo come sempre che tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro sito internet livebrescia.tv Eccolo qua dove trovate la diretta di live in questo piccolo box e dove trovate anche i banner dedicati. Uno ad esempio è questo per accedere e iscrivervi ai nostri canali Telegram, Live Brescia News e Live Brescia Sport per ricevere tutte le notizie in tempo reale direttamente sul vostro telefono cellulare. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio a partire dalle 18.30 per seguire la partita del Brescia Calcio contro il Cosenza e informazione telegiornale che ci sarà anche questa sera ma sarà ovviamente nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo della partita. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata e a presto. Per rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.